colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi di iscrivervi al canale aiutarmi a crescere attivare la campanellina e vi ricordo il nuovo contest sul canale ragazzi il contest road to 15k ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest troverete tutti i miei contatti contatti del team glitch e tutto il resto detto questo vai con la intro ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è il glitch da fare da soli della deluxo ragazzi allora con questo glitch si duplicano deluxo ho visto sotto i commenti di altri youtuber che qualcuno dice che non funziona tanti dicono che va benissimo e cazzate varie allora per fare questo glitch abbiamo bisogno di un garage qualunque ragazzi qualunque e di una lgr h8 come state vedendo e una deluxo da duplicare quindi mettete fuori la vostra lgr h8 dal garage e lasciate in strada una volta che avete lasciato in strada la lgr h8 vi allontanate abbastanza per poter richiamare la deluxo e una volta che avete richiamato la deluxo andate a fare il glitch allora ragazzi ci sono vari punti in mappa dove si può entrare però uno dei punti più pratici è questo qui vicino all'aeroporto allora vi dico subito ragazzi che la rogna è trovare la sessione giusta perché in alcune sessioni vi fa morire specialmente se lo fate in privata in privata non potete farlo lo dovete fare per forza in pubblica e dovete trovare la sessione giusta dove farlo ora fate bene attenzione in mappa dove sto andando con la deluxo ragazzi quindi arrivate al punto preciso che è leggermente cambiato da quello che era precedentemente e vi lasciate cadere ragazzi quando siete proprio a questo punto dove sto arrivando io vedete che sto arrivando verso dove c'è la piega diciamo no dove incomincia la x dell'aeroporto e proprio esattamente in questo punto spegnete il motore e vi lasciate cadere ragazzi quindi una volta che siete qui vi spawnerà dentro al nightclub e subito dopo fuori immediatamente cambierà la targa e tutto il resto insomma e avrete fatto il glitch per salvare l'auto ragazzi dovete andare o nel centro operativo mobile oppure oppure ragazzi in una qualunque officina di vostra proprietà come in questo caso nel ceo ovviamente non potete andarla a salvare nella club house perché insomma è una macchina non c'entra nella club house questo ve lo dico però potete salvarla nel ceo quando sarete nel ceo entrate nel ceo andate nell'officina cambiate una cagata e dopodiché siete pronti a ripetere il glitch ragazzi allora ho sentito che qualcuno la vende a zero ho visto che qualcuno la vende a zero non ne so la motivazione però il glitch funziona ragazzi quindi approfittate di questo glitch spero che anche a voi non vi dia tutti quei problemi che ho letto in giro raga purtroppo i glitch so questi dobbiamo adeguarti detto questo non ho niente tant'altro da aggiungere un saluto al prossimo video